Svelato il programma del Cantamaggio 2024, sei carri in gara, sfida tra DJ e concorsi di poesia e di canzoni ovviamente ma giaiole. Approvato il bilancio di esercizio 2023 del servizio idrico integrato, eletto il nuovo collegio sindacale ma per il consiglio di amministrazione si va avanti con la prorogarazio. La Ternana si salverà? Questa è la domanda più gettonata tra i tifosi rossoverdi che al nostro microfono si sono detti ottimisti. Ben trovate una nuova edizione del notiziario di AM Eterni Television. È tutto pronto per la 128esima edizione del Cantamaggio Ternano, cinque giorni di festa dal 29 al 5, il cui culmine sarà la sera del 30 quando come da tradizione sfileranno i carri allegorici, il servizio. Nonostante le polemiche e le incertezze che fino all'ultimo hanno accompagnato i magiaioli, la 128esima edizione del Cantamaggio si farà. Io ho sempre la certezza che non avrei pensato che non ci fosse il Cantamaggio, quello che ho detto. Sarebbe stato più bello poterlo fare con questa eternità, con la eternità di dedicarsi magari al programma del Cantamaggio e stare dietro a tutte le beghe per le finanziarie. Non è che il Cantamaggio può dipendere da una giornata di un foro o un altro. Il Cantamaggio sono 128 quarti, il 30 aprile, 50 maggio, quindi chi governa deve programmare e metterci il fricoluto di finanziamento. E questo è il suo modo. Non è che partecipare insieme a un'attività per organizzare una bella festa, come fare in tale città. Non è che qui se andiamo a Siena, se andiamo al palco, se andiamo ai carri di Viareggio, prendiamo la bussa della Neri, qui vicino. Chissà che ci sta la festa, quindi dovremmo sempre presentarci. No, non è il contrario. È il contrario. Cinque giorni di festa in piazza, sei carri in gara, canzoni in vernacolo e non, fino alla conclusione la sera del 5 maggio con la finale del nostro programma Best DJ. La serata più importante rimane però ovviamente quella della sfilata dei carri, che si terrà a tempo permettendo la sera del 30 aprile. Come sempre, i sei carri rappresenteranno sì la primavera, ma anche le tematiche sociali e di attualità, come la preoccupazione per i conflitti internazionali e i femminicidi. I carri spiegheranno il prossimo futuro del 30 aprile e a posto abbiamo trovato insieme a tutti noi la possibilità di rimettere in mostra che la gente li può vedere in cinque giorni. Due a piazza Europa, a piazza Repubblica e due a palazzo di finish. Approvato il bilancio di esercizio 2023 del SII, Servizio Idrico Integrato. In occasione dell'Assemblea dei Soci è stato anche eletto il nuovo collegio sindacale, ma non si sono presentati i rappresentanti del Partito Democratico che continuano nella linea dell'astensionismo. Il punto nel servizio. L'Assemblea dei Soci del Servizio Idrico Integrato di Terni ha approvato il bilancio di esercizio 2023. In occasione dell'Assemblea dei Soci è stato anche eletto il nuovo collegio sindacale, formato da Fabio Ciotti, presidente, Geronimo Cardia, Marco Cremonesi, Caterina Brescia ed Alessia Zenone. Non si sono presentati i rappresentanti del Partito Democratico che continuano nella linea dell'astensionismo. Il Consiglio di Amministrazione rimane quindi in prorogazio. La seduta, che si è svolta con la partecipazione dell'84% del capitale sociale, si è conclusa con l'approvazione del bilancio all'unanimità dei presenti. Nel 2023 sono stati fatti investimenti per 16 milioni di euro e gli investimenti per abitante sono aumentati, passando da 49 euro nel 2021 a più di 76 euro pro capite nel 2023, valore superiore all'importo medio investito a livello nazionale. Esprimo soddisfazione, afferma il presidente Carlo Orsini, per i risultati raggiunti che reputo lusinghieri. Il servizio idrico integrato sta crescendo sotto il profilo della reputazione aziendale, sia grazie agli investimenti che alle iniziative messe in campo sul territorio, dimostrando vicinanza alla comunità. Solo per fare un esempio vorrei citare il progetto Acqua Amica, dedicato alle nuove generazioni. L'iniziativa, rivolta alle scuole dei 32 comuni soci della Sì, si sta sempre più consolidando e sta diventando un punto di riferimento per quanto riguarda la sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi all'uso consapevole della risorsa idrica. Le nuove generazioni rappresentano il nostro futuro ed abbiamo il dovere di insegnare loro l'importanza della sostenibilità ambientale a concluso Orsini. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia va all'attacco dell'amministrazione Bandecchi con una segnalazione alla Corte dei Conti, all'Agicom e al Corecom dell'Umbria. Lo fa a seguito della decisione dell'esecutivo di far stampare con i soldi di Palazzo Spada un opuscolo informativo con elencate le iniziative fatte in questi mesi di governo, foglietto che i ternani in questi giorni stanno trovando nelle cassette della posta. Il tutto in momento di par condicio. Facciamo il punto nel servizio. Si intitola i cambiamenti dell'amministrazione Bandecchi. Il pieghevole realizzato da chi guida oggi Palazzo Spada è che in questi giorni i ternani stanno trovando nelle proprie cassette della posta. All'interno del volantino, costato 4.200 euro le casse del Comune, vengono elencate una serie di iniziative e obiettivi che, secondo l'amministrazione, sarebbero stati centrati dallo stesso esecutivo Bandecchi. Di opinione contraria il gruppo consigliare a Palazzo Spada di Fratelli d'Italia che ha voluto fare chiarezza sull'iniziativa. La discussione è proprio sui contenuti e anche sugli aspetti formali. Sui contenuti ci sono raccontate una serie di favole che riguardano forse quello che è negli auspici, che negli auspici qualcuno avrebbe voluto fare. Parlare di PNRR e di fondi per gli edifici e le menze da parte dell'assessore alla scuola è quantomeno improvvido per il semplice motivo che col PNRR, come è noto, questa amministrazione non c'entra nulla. Ha eseguito e sta eseguendo 31 cantieri, come scrive poi in un'altra parte probabilmente chi si occupa di lavori pubblici, ci fosse un cantiere aperto su iniziativa di questa amministrazione. In verità uno dove aprire era quello del sottopasso di Cospea, ma ad oggi quello non lo è. Soldi pubblici purtroppo in un periodo di par condicio, distribuzione di 60.000 pezzi in tutte le case quando non si può fare. Quali sono le iniziative che avete intrapreso? Segnaleremo questa iniziativa alla Corte dei Conti, segnaleremo questa iniziativa all'Agicom e al Corecom dell'Umbria. La Regione dell'Umbria predispone 11,5 milioni di euro per il nuovo piano ordinario di recupero e contenimento delle liste d'attesa. Ascoltiamo. Deliberata dalla Giunta regionale la messa a disposizione di oltre 11,5 milioni di euro per il nuovo piano ordinario di recupero e contenimento delle liste d'attesa. Piano che fa seguito a quello straordinario messo in campo lo scorso anno che ha portato all'abbattimento completo delle circa 80.000 prestazioni accumulate prima del maggio 2023. Ad oggi il numero delle prestazioni sanitarie nei percorsi di tutela si è stabilizzato intorno alle 55.000 unità. La Regione per il recupero delle liste d'attesa nelle more degli eventuali provvedimenti operativi del Governo nazionale potrà contare su 7,3 milioni di euro così ripartiti, 1,5 milioni per l'azienda ospedaliera di Perugia e altrettanti per quella di Terni, mentre le USL 1 e 2 avranno ciascuna a disposizione 2,151 milioni di euro. A queste somme si aggiungono gli stanziamenti di 2,98 milioni di euro per le prestazioni aggiuntive orarie del personale medico pubblico e 1,3 milioni di euro per le prestazioni aggiuntive del personale non medico del comparto sanitario pubblico. Entro il 6 maggio è prevista un'ulteriore ricognizione numerica delle prestazioni da aggredire per tipologie e priorità, al fine di avere un quadro quanto mai attuale in base al quale, entro il 13 maggio, programmare il loro smaltimento dal punto di vista operativo. Per il 14 maggio è prevista una riunione per la verifica del piano stesso e per determinare le tempistiche per concretizzare il recupero delle prestazioni pregresse e la gestione delle nuove. Abbiamo ricevuto da una residente la segnalazione che a via del sigillo a Terni ci sono erbacce e una situazione di degrado. Siamo andati a vedere com'è la situazione nel quartiere. Vediamo. Dopo il taglio dell'erba davanti alla chiesa di Campitello, seguito al nostro servizio di denuncia, una residente di via del sigillo è venuta da noi per segnalarci la situazione di degrado che vige nel parchetto del quartiere. L'erba ha ormai preso il sopravvento sulle panchine diventate impraticabili. Le graminacee infatti sono quasi ad altezza uomo e tra le sbarre dei sedili si possono notare addirittura dei fiori, non proprio il posto più comodo per sedersi. Un peccato dal momento che ci sono anche i giochi per i bambini, che l'area dovrebbe essere un'oasi di socialità per i residenti del quartiere. Ma la situazione è la stessa in tutta la via, erba alta ovunque, che in questa stagione può facilmente diventare nido di animali poco amichevoli e addirittura pericolosi. Speriamo che la nostra segnalazione, anche in questo caso, sia ad aiuto ai cittadini e possa attirare l'attenzione dell'amministrazione. Il tema stadio clinica approda nuovamente in Consiglio regionale. Ci sono state ancora delle scintille tra il consigliere del PD Fabio Paparelli e l'assessore Enrico Melasecchi. Ricostruiamo la faccenda nel servizio. Nuove scintille sul progetto stadio clinica rispetto al quale parte del mondo politico continua pericolosamente a giocare, tutelando interessi che incolle legittime aspettative di un territorio nulla hanno a che vedere. A cosa ci riferiamo? All'ultima seduta del Consiglio regionale dedicata al question time, dove il consigliere regionale del PD Fabio Paparelli ha presentato una interrogazione avente per tema proprio il progetto stadio clinica. Interrogazione nella quale il consigliere, nel rispetto di una linea che in verità porta avanti da sempre sul tema, ha di nuovo seminato più di un dubbio sulla procedura del progetto, specificando inoltre che per finanziare la costruzione dello stadio l'unica via percorribile è quella di utilizzare i canoni idrici, accendendo un mutuo per finanziare l'impianto. Una posizione che ha scatenato le iree dell'assessore regionale Enrico Melasecchi, che ha attaccato il rappresentante regionale del PD. Paparelli è contro Terni, contro 200 nuovi posti di lavoro, il prestigio di uno stadio moderno, lo sviluppo del territorio e una corretta ripartizione dei fondi tra le due province che, negli anni in cui Paparelli e il PD sono stati al governo, sono stati solo ed esclusivamente distribuiti alle cinque cliniche convenzionate con il Servizio Sanitario Pubblico di Perugia. Melasecchi ha poi concluso il suo intervento chiedendo al Movimento 5 Stelle se si ritrovava o meno nella posizione assunta da Paparelli in Consiglio. Iniziato tre anni fa si è concluso con una fumata bianca il percorso che porterà l'Umbria verso la transizione ecologica grazie alle comunità energetiche. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Le comunità energetiche in Umbria diventano legge, questo quanto deciso dall'Assemblea legislativa che ha approvato la proposta di legge e promozione delle comunità energetiche e rinnovabili, frutto dell'iniziativa partita tre anni fa dal Movimento 5 Stelle e poi integrata con il successivo testo presentato dal Consigliere della Lega Daniele Carissimi. La nostra proposta diventa patrimonio condiviso dell'intera comunità regionale, le parole del Consigliere del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, relatore di minoranza della proposta. Grazie a questa legge la Regione potrà finanziare impianti e infrastrutture volte a sostenere la transizione ecologica e fungere da aggregatore di quei soggetti che vogliono mettersi insieme per diventare prosumer, ovvero produttori e consumatori. In questo modo semplici cittadini, imprese, diocesi, prologo, comunanze agrarie e altri soggetti potranno ottenere un notevole beneficio economico. Si conclude un percorso che consente all'Umbria di adeguarsi ad iniziativa analoga già presente in molte altre regioni italiane. La proposta era stata votata in maniera bipartisan all'unanimità in seconda Commissione. Attraverso questa legge la Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di abbandono delle fonti fossili in favore della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili, promuove e sostiene i gruppi di aiuto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici della rete. La neve fuori stagione si è abbattuta anche nel territorio ternano, su Polino, Colle Bertone, sui prati di Stroncone, infatti nelle ore passate si è abbattuta una fitta nevicata. Vediamo le immagini. Il versante del territorio ternano più a ridosso della Valnerina e del confine orientale della provincia è stato interessato nelle ultime ore da insolite copiose nevicate. Se solo una decina di giorni fa le località di montagna erano state occupate da comitive in magliettina pronte al picnic e a un anticipo di tintarella, da qualche ora invece, e così ancora per un paio di giorni, sulle vette delle montagne è tornata la neve. Colle Bertone, Polino e i prati di Stroncone hanno visto depositarsi un manto candido in poche ore, come si vede nelle immagini diffuse dalla provincia di Terni, il cui personale addetto si è immediatamente accertato dell'assenza di problemi alla viabilità. Il fenomeno d'esta curiosità, ma forse c'è poco da sorridere. Le sortite di correnti artiche ad aprile inoltrato sarebbero, a detta di molti esperti, un indicatore del cambiamento climatico in atto e la frequenza di tali fenomeni pare destinata ad aumentare in futuro. Insomma, meglio aspettare maggio per il cambio di stagione. Appuntamento con la grande musica dalla classica ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone alle composizioni di Luciano Fancelli, nella serata di sabato 11 maggio alle ore 21 con ingresso gratuito nella chiesa di San Francesco ad Amelia. L'associazione Luciano Fancelli organizza infatti il concerto della Fisorchestra Fancelli di Terni, diretta da Marco Gatti, in ricordo dei grandi maestri appunto della Fisarmonica. E una storia vera raccontata in chiave fantasy è quella contenuta nel libro Battaglia delle Nazioni, poema eroico Umbro, presentato nei giorni scorsi dall'autore Valentino del Ponte Cardona. Lo abbiamo incontrato. Una battaglia realmente accaduta che racconta gli Umbri in chiave fantasy e un viaggio interiore fino alla battaglia finale. Una storia da vivere è scoprire attraverso il libro Battaglia delle Nazioni, poema eroico Umbro, presentato dall'autore Valentino del Ponte Cardona Annarni. Il mio libro si chiama Battaglia delle Nazioni, il poema eroico Umbro. Questo libro è tratto da una battaglia realmente accaduta nel terzo secolo avanti Cristo, quando Roma stava creando la sua espansione, quindi da Repubblica stava diventando imperiale. Durante questa battaglia, che è la terza guerra sannitica, grazie a un condottiero sannita, Gelli Ignazio, decise di formare una lega di Nazioni Unite, comprendendo la faccia dell'Italia centrale, quindi Etruschi, Galli, i sanniti e noi Umbri. Questa storia è in chiave fantasy e racconta la storia degli Umbri Narchi, del loro viaggio per ricomporre i clan a separazione che era stata a lungo la loro storia e andare al campo di battaglia per cercare di difendere la libertà insieme a questi altri popoli. Poi la storia la conosciamo bene, è finita che comunque sono state varie vicissitudini che hanno portato a Roma, che ha vinto questa battaglia, però intorno a questa storia, che anche la battaglia di per sé è una chiave molto particolare, perché c'è stato un comandante romano che ha fatto il devozio, praticamente si era sacrificato come un kamikaze, quindi è stata una battaglia, quindi tutti questi popoli uniti che parlavano lingue diverse in una lega unica. I romani dall'altra parte comunque con questa esplosione, diciamo già la storia ha una base molto particolare. Questa chiave fantasy diciamo io ho ricostruito, ecco, la parte nostra dell'Umbria meridionale, dove affrontano questo viaggio e anche un viaggio personale, perché tutti questi personaggi comunque man mano fanno un loro viaggio interiore per arrivare al campo di battaglia, pronti. Dove può acquistare il libro? Il libro si può acquistare su Amazon, siamo ancora in revisione di alcune cose, ma a breve, tra qualche giorno, sarà disponibile su Amazon, sul Kindle. Sia la versione digitale che, per chi vuoi, la versione cartacea. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, a dopo con le notizie sportive. Grazie a tutti.